ragazzi buongiorno e un buon pranzo a chi deve pranzare tra poco ok e un buon quindi è un buon lunedì a tutti allora iniziamo dal presupposto che la lume ha parangiato quel anno di ieri pomeriggio perché abbiamo fatto una cosa al primo tempo straordinario in tutta la partita nei primi 45 minuti ok però subito all'intervallo i tifosi hanno fischiato alla squadra e hanno fatto bene perché è ingiustamente quello che si meritano ok cioè quella partita è come su un uve nel c'è c'è una brutta prestazione di locatene e salirei uno solo ok perché quello è un ex giocatore da ieri va bene e così sono con me e chiesa mi dico che fa la differenza e va bene poi c'è Danilo e Alessandro ok e non buttare via a quel cesso di Cessandro ancora me lo mette Alessandro ancora me lo mette ok quel cesso di Alessandro Cinque giocatori se ne andranno cinque giocatori perché giocano contro l'aleatore non va bene così ok non va bene Hanno fatto una partita indegna 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 ok perché non sputtato sangue su ogni pallone con gli occhi sanguigni hanno notato mi rettino ne voglio parlare perché è stato bravo ok perché cambia su ogni stato bravo e meccani ok questo è io non sto mettendo le critiche al centro campo ma la critica la faccio soprattutto al nostro centro campo di qualità perché non abbiamo i giocatori top ok questo dobbiamo capire perché non c'è perché non c'è un gioco in questa squadra non c'è veramente un gioco ok cioè io l'ho detto dopo ogni genuaiove quando ho detto che si danno o non si danno i rigori ma per me quello di ieri è rigore netto ok perché mi rettino mi sbaglia con le occasioni ok e lo che te mi sbaglia con i passaggi cioè la mia seconda categoria non è simbomboone e questa giove è la terza categoria io la posso definire mi rettipiucca la serie b nemmeno un titolo che fa quindi questo è il fatto di oggi ok quindi questo è ragazzi una vergogna abbiamo fatto ieri una vergogna ok e nei 90 minuti siamo usciti bene perché l'Atalanta era stanca perché ha giocato di mercoledì scorso più quella di ieri sera alle 18 contro la Juventus ok e voglio mi rimango a tutti quelli che criticano all'Aleatore perché si ingira intorno all'Aleatore sì è vero non possiamo poter criticare l'Aleatore ma così non dimondare nessuna parte cari miei perché è la verità ok perché siccome hanno messo i cori e strigioni per Max Allegri a me mi fa un grande piacere perché io sono con loro sono pro allegri ok sono pro allegri quindi basta basta a dire certe minchiate basta ok e lui mi e lui mi dice che porta un punto in più rispetto su Bologna ma che cosa dici ma che sono questi discorsi c'è col cucchiaino c'è col cucchiaino c'è mai possibile ti abbiamo pregiato c'è io non vedo tutta questa differenza tra io e l'Atalanta perché erano alla pari ok quindi questo è facciamo schifo come giochiamo facciamo schifo fanno pietà fan fanno pietà ok quindi questo è non mi posso dilungare oggi ok perché così perché ma prima rispettata la mania ma rispettata ok dobbiamo difendere i nostri colori e dobbiamo difendere l'Aventus sempre ok sempre io me lo sto dicendo dopo l'ingegno a nuove questa cosa qua ok perché mi fa letteralmente schifo dire una nuove così nel genere facciamo schifo perché facciamo schifo soprattutto il centrocampo e l'attacco perché in difesa corrono e poi in attacco la stessa cosa perché corrono ok corrono davanti e indietro perché siamo coperti è vero però possiamo pure dire certe cose ok ma non cambiate il ragionamento quindi se un alleatore mi sbaglia le scelte non mi ha mai criticato mai ok io non me la posso prendere con i miei reti e con cambiazzo o meccani ok perché hanno disputato una buona partita per me una buona partita come chiesa minic ok questi siamo noi noi questi siamo e io mi ho detto da due mesi fa questa cosa due mesi fa ok quando lei vince la monna le partite dove era quella cazzo di uomo eh dove era io voglio immaginare più punti più punti possibili e questi qua ce ne offregano un punto un punto in sette partite e subiamo seguo la partita ok e non va bene non va bene ragazzi ok non va bene perché io ne ho mesi fa vincevo e ora dove sta quella giuola dove era eh perché abbiamo vinto quella con il frosinone e poi ci facciamo buttare 0 punti e 1 punto ok e da 3 punti con il frosinone quella che abbiamo vinto con il napoli abbiamo perso e con l'atalanta abbiamo paringiato cioè sono tutti vergognosi va bene soprattutto al capitano Danilo qui c'è una nai qui c'è una qui c'è una qui c'è una ma sentite a me sentite sto fesco ok perché Roberto D'Amico ha detto queste cose è arangione arangione ok perché non possiamo giocare così non possiamo ragazzi non possiamo ok quindi fatemi sapere la vostra e commentate qua sotto quindi mi raccomando ok non mi non mi voglio prendere i rambi a porre oggi perché è così e mi rogheriamo terzi in classifica perché i minaggi sono superati va bene è così e ci è andata e ci è andato tutto storto però possiamo portare i punti a casa caro mister li possiamo portare a casa questi tre punti con con Genua dai dai bene così ok quindi iscrivetevi su questo canale se non l'abbiamo ancora fatto e attivate le notifiche per non prendere i prossimi contenuti ok e lasciate anche un like e qualche commento ok e soprattutto abbonatevi per tanti vantaggi mi raccomando e fino alla fine ok 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 ok